Come vedere se puoi reggere un gioco sul tuo PC grazie a Can You Run It? Ovviamente prima di comprare un gioco ti consiglio sempre di vedere se puoi reggere questo gioco sul tuo PC. Quindi se tu vai sul sito Can You Run It? Ti ho lasciato il sito in un link in descrizione. Quindi in questo caso per esempio prendiamo Cyberpunk 2077. Can You Run It? Puoi correrlo? Questa è la traduzione che mi ha dato il sito. Clicco qua sopra. Inizio, raccolta dati, applicazione di rilevamento e mi fa scaricare un'applicazione. Una volta fatto clicchiamo sull'applicazione, installiamo l'applicazione, deve fare un rilevamento del nostro hardware. Ed eccolo qua. Ok, tutto a posto. Io supporto Cyberpunk 2077 sui requisiti minimi. Consigliate pure. Esegui ogni gioco al 100%. Vabbè, questi sono i prezzi dei computer. Sì, 100%, 100%, vabbè, tanto il computer da 3.000 dollari qui. Che se lo compri ovviamente giocherai a qualsiasi gioco che tu vorrai, quindi. Ed ecco come funziona. Questo sito è veramente molto molto utile. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come vedere se puoi reggere un gioco prima di comprarlo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.